Noi siamo a Milano e siamo alle porte della Fashion Week Vogliamo far vedere un pochino di come funziona un casting, come scelgono le modelle Più o meno i dietro alle quinte di una sfilata, di un progetto E ora sta avvenendo il casting dove la stilista sceglierà le modelle più adatte a indossare i suoi cappi E dopo il casting siamo a Como, in questa bellissima location, Villa Amato Una villa del 1690, dove oggi si svolgerà il shooting fotografico per la costruzione di questo nuovo brand, Gilla Andiamo a vedere cosa succede? E adesso andiamo a espiare un po' di scatti E adesso andiamo a vedere cosa succede? E ora come vedete ci siamo spostati all'interno della villa dove fanno la seconda parte del servizio fotografico E adesso andiamo a vedere cosa succede? E adesso andiamo a vedere cose e quando vuoi cerciò maci Ok, abbiamo finito il primo shooting fotografico e la prossima tappa sarà la presentazione per la Fashion Week. Grazie a tutti.